Il sottosegretario agli interni Carlo Sibilli ha voluto incontrare il nuovo prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, i sindaci della provincia, non soltanto per il periodico punto sulla situazione della sicurezza nel territorio, ma soprattutto per promuovere l'adesione del maggior numero possibile di pubbliche amministrazioni alla ANPR, la banca dati nazionali nella quale stanno confluendo le anagrafi comunali. L'obiettivo del governo è che entro l'anno tutti i comuni italiani possano effettuare il passaggio. L'incontro oggi in prefettura Chieti sicuramente per testimoniare una vicinanza al nuovo prefetto che deve sicuramente dare un impulso ancora maggiore in questa che è una città importante dell'Abruzzo e poi per riunire tutti i sindaci per dare l'impulso all'ingresso nell'anagrafe nazionale delle residenze pubbliche, perché è un aspetto fondamentale che questo governo vuole incentivare ai fini della digitalizzazione di tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo a favore dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione. Per Sibilia è fondamentale che i dati rimangano al Ministero degli Interni e quindi restino di proprietà dei cittadini italiani, non delle multinazionali dei big data. Aderire alla ANPR insieme al sistema della carta elettronica e ad identità e allo SPID consentirà, spiegato il sottosegretario, di abbattere gravose barriere burocratiche e vadere in tempi brevi pratiche relative ad esempio a richieste di fondi e all'emissione di certificati pubblici che dovranno essere a portata di smartphone per tutte le generazioni.